beh ragazzi continuano i pronostici di clash the castle evento che vi ricordo se vi va potremo condividere guardare indirettamente tutti insieme con una live reaction su twitch mi raccomando sul social viola il 3 di settembre dicevo continuiamo con i pronostici e oggi vi porto già indotte il main event il corazziere scozzese drew mcintyre che combatterà in casa in europa contro il capo tribù roman reigns anche qui due chiavi di lettura vi chiedo chi pensate che vinca e chi fareste vincere voi e soprattutto perché queste scelte perché fareste vincere l'uno piuttosto che l'altro me lo dovete spiegare quindi forza dita roventi dateci dentro